Sono Lairt Coraci, titolare del salone La Suite 72 a San Colombano all'Ambro. Nel momento in cui ho dovuto scegliere gli interni del negozio, sono rimasto affascinato dall'eleganza degli arredi della San Martin. Sono stati perfetti in tutto rispecchiando appieno le mie esigenze. La gente è rimasta affascinata dall'eleganza e dal servizio che offriamo. Consiglio a tutti gli arredi San Martin per poter esaudire i loro sogni. Se anche tu desideri arredare una barberia prestigiosa, clicca adesso su Scopri di più e richiedi un preventivo personalizzato.